Allora per gli amici elettori di Vivi Casagiove con coach Marco Balzano della Caudium Volley, coach una partita, un match che non ammette replica quest'oggi? No, è stato un match, devo dire, innanzitutto bellissimo, combattuto dal primo al secondo punto, la compagine Casagiove, una squadra che sapevo che è preparata e così è. Siamo stati anche bravi noi, abbiamo trovato un buon assetto, una squadra giovane, un roadster, anche se c'è da dire dal secondo anno, anche se abbiamo avuto la retrocessione, quest'anno riusciamo ad esprimerci comunque meglio dell'anno scorso, ci siamo preparati tanto, anche se in ritardo, e sono contento perché alla fine il lavoro in palestra ha dato i suoi frutti e sicuramente abbiamo raggiunto un primo obiettivo come venire di campionato contro una blasonata come il Casagiove, per noi è una bella soddisfazione. Una formazione molto giovane, un'età media molto bassa, la vostra, quali sono gli obiettivi che vi siete previstati per questa stagione? Beh, noi partiamo sempre per un campionato, non dico di salvezza, ma possiamo dire di salvezza, perché comunque è vera la seconda esperienza, ma comunque sono ragazzina alla fine, a me è da 18 anni, quindi è difficile fare un pronostico per dire un campionato diverso. Un campionato per salvezza per ora è l'obiettivo principale. Grazie, in bocca al lupo allora. Grazie a voi e buon proseguo. Grazie.